Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, giovedì 25 marzo. Ha ragione il mio amico Alessandro Banfi che oggi ha veramente detto siamo ripiombati nel Medioevo, il Medioevo è più vicino per tre questioni fondamentali. È più vicino perché, questo ovviamente è una mia interpretazione della sua intuizione, perché siamo medievali nell'affrontare la malattia. L'unico modo in cui affrontiamo la malattia è chiuderci in casa e le mascherine. Questo è il modo in cui l'Italia affronta la malattia ed è una cosa che mi fa impazzire perché mi sembra di capire dai giornali che fino a giugno saremo chiusi. Ed è una cosa gravissima. L'unica cosa che sono capaci di fare questi qua è far chiudere gli italiani a casa. Siamo vicino al Medioevo perché c'è lo schiaffo di Anagni dove c'è la fabbrica AstraZeneca, non ci sono i francesi che schiaffeggiano il Papa con le complicità dei Colonna, ma c'è un problema con il Big Pharma che poi vedremo essere quanto, essere grande. La terza cosa fantastica è ovviamente la celebrazione di Boccaccio, la celebrazione di Dante con due pagine del Presidente della Repubblica oggi sul Corriere della Sera che celebra il grande italiano, anche se dice giustamente che non si può sempre pensare che l'Italia di oggi sia simile a quella dell'Italia di ieri, che è sempre un gioco che noi facciamo. La cosa fondamentale della giornata comunque è che Draghi ieri ha parlato e si è scagliato contro le regioni. I presidenti delle regioni non ci stanno, sui vari giornali e interviste dei presidenti delle regioni che non si sentono attaccati, cioè Federica, Toti, ma la risposta più ridicola è forse quella del Presidente della regione toscana, Gianni, che vi leggo tra poco, perché Draghi se la prende con le regioni perché dice che non si riesce a capire perché non abbiano vaccinato gli ultraottentenni, che è una cosa molto banale. Il Presidente Draghi dice che il modello inglese è quello maggiormente funzionante perché è il più pragmatico, è anche questa una cosa banale, e non si riesce a capire come sia possibile, lo dicevamo ieri, che siccome gli ultraottentenni sono i più fragili e vi do il numero su 105.000 morti, ricordatevelo sempre, su 105.000 morti soltanto 1.000 hanno meno di 50 anni, quei 1.000 hanno molte altre malattie, sono morti per molte altre malattie, quindi il problema riguarda i fragili e gli anziani ai quali si sarebbe dovuto dare la priorità per il vaccino, ma non solo perché siamo generosi, ma per noi stessi, per poter uscire in questa genialata, in questa stronzata che hanno fatto i Presidenti delle Regioni e chi più, chi meno, quello che l'ha fatto più di tutti è la Toscana perché è la penultima, diciamo che l'ultima mi sembra che sia la Sardegna che però non ha nessun livello di contagio neanche paragonabile a quello dell'Italia insulare e riesce a dire non è vero che Draghi si rivolgeva a noi, vabbè, insomma, non si sente attaccato da Draghi, bene, noi siamo, secondo il Gimbe, non siamo ultimi, siamo 14esimi, quindi adesso quello che decide le classifiche è il Gimbe di Cartabellotta che peraltro oggi ci dice che dobbiamo essere chiusi per i prossimi nove mesi, adesso sto esagerando, un po' come fa Galli, cioè ci sono sempre quelli, no, i catastrofisti, però il Gimbe viene preso il dato da Gianni per dire che non sono gli ultimi, in realtà ovviamente non è così perché i numeri del Ministero della Salute dicono esattamente che loro sono i penultimi e di fatti lui dice il problema, dice Gianni, che ci hanno dato meno dei vaccini promessi. Ma questo vale per tutta la Lombardia, per tutto il Veneto, per tutta la Calabria, per tutta la Puglia, per tutto il Lazio, cioè ma che cazzo, ma che tipo di giustificazione è? Capisco il tema generale, l'abbiamo detto mille volte, ha dato meno vaccini di quanto ci si attendesse, ma ragazzi, ma stiamo scherzando, è la regione in cui il cialtrone narcisista si vaccina a meno di 50 anni e non si vaccinano gli ottantenni, ma siamo pazzi, ma si può giustificare così? E poi dice entro il 25 aprile, entro il 25 aprile prometto di vaccinare tutti gli ottantenni e scopro che gli ultraottantenni in Toscana sono 320 mila, 320 mila! Cioè 4,4 milioni sono gli ultraottantenni in Italia, in Toscana ce ne sono solo 320 mila e questi cazzoni invece di mettersi in ginocchio e chiedere scusa, che cosa dicono? Beh, sono arrivati pochi vaccini, in realtà sono arrivati più vaccini degli ottantenni, quindi avrebbero potuto dare la prima dose a tutti quanti e la seconda dose a gran parte di loro. È una cosa pazzesca, cioè si può dire che... Quindi la tesi difensiva contro Draghi è Draghi non c'era con noi, Draghi non parlava di noi, comunque non sono arrivati i vaccini e comunque lo farò entro il 25 aprile, non capendo che ogni giorno in più per un anziano può essere una morte in più, a differenza che per un giovane. Comunque, sulle riaperture ragazzi è il secondo grande tema, non ce n'è, si capisce oggi che quel pazzo, noi siamo in mano a speranza, noi siamo in mano a speranza che riesce a dire il patrimonio, è un patrimonio nazionale, la campagna vaccinale, questi non hanno l'idea di dove vivono, di come parlano, sono dei politici in provetta che dovremmo lasciare nelle loro provette, purtroppo siamo là che li stiamo coccolando, coccolando come se fossero il libro di speranza, guardate me lo sto leggendo, è una cosa patetica, come ci spiegava che sarebbe finito tutto, e noi a questo ancora lasciamo in mano il nostro futuro, e siamo qua zitti e muti, io sto impazzendo, come molti italiani stanno impazzendo, con l'idea che da qua a giugno saremo tutti chiusi, anche se ieri Draghi ha detto, forse apriamo le scuole dopo Pasqua, è forse il cavolo, e ci vorrebbe, visto che era un punto programmatico di questo governo, ma poi la curva sta scendendo, come tutti sapevano, e non già per il lockdown, cosa che sembra avallare i polito dello Spallanzani, io gli voglio bene a questi dello Spallanzani, ma come si fa a pensare che dopo una settimana la curva stesse scendendo, se loro ci spiegano che i contagi in realtà hanno un tempo di incubazione per la quale non è compatibile con quella discesa, stava scendendo per cause naturali, come Gerli e tanti altri hanno sempre sostenuto, ma vabbè, dobbiamo dare ragione ai lockdown, perché ci debbano chiudere fino a giugno, e quindi dobbiamo stare tutti chiusi a casa, in questa specie di follia, dove non trovo una persona sana di mente che possa pensarla diversamente. Oggi su tutti i giornali la foto dell'infermiera, stupenda, in tuta che sta vicino al bambino, Matteo ricoverato, lontano dalla mamma, e fiumi di retorica su questo Matteo contagiato di Covid, lontano dalla mamma, la prima pagina di tutti i giornali, io adoro i bambini, adoro Matteo, e adoro quell'infermiera che gli sta accarezzata, ma che cazzo c'entra questo col Covid? Ma che c'entra? Purtroppo quel bambino ha avuto una grave operazione all'intestino ed è ricoverato da marzo non per il Covid che aveva la madre e gli era attaccato, ma per una grave operazione all'intestino, perché nella grande retorica anche i bambini si ammalano di Covid e ci sono le infermiere che li aiutano tutte nello scavandro. Minchiate! Perché oggi se uno facesse le foto in qualsiasi reparto dove ci sono migliaia di medici di serie B perché non si occupano del Covid stanno salvando bambini, adulti e anziani, cercano di farlo dalle malattie normali che purtroppo in questo mondo ci sono. Ma la retorica del Covid deve distruggere anche questo rapporto infermiera-bambino per cui i giornali lo devono raccontare come l'ennesimo caso di Covid. No, purtroppo Matteo c'è un altro problema oltre ad avere il Covid che non è il suo problema fondamentale, ma purtroppo è un altro. Ma i giornali ce la devono raccontare. E ovviamente la tesi di speranza su questo grande coso, sapete qual è? Non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. E quindi a giugno non vanificheremo gli sforzi del 2020 e del 2021, a settembre non dobbiamo vanificare. Cioè in questo modo, in realtà, questo uomo che vive solo di politica, che ha sempre vissuto la politica, che se ne fotte alla serra, insomma, di quelli che si occupano delle partite di vive, degli artigiani, di quelli che lavorano normalmente, e guardate bene, anche quelli che lavorano nel pubblico impiego, ce ne sono molti che lavorano nel pubblico impiego, disperati della situazione in cui si trovano. C'è una buona parte che invece se ne approfitta. Nel frattempo il fitto giallo dello schiaffo di Anagni, qui è un'altra di quelle minchiate colossali. Siccome dobbiamo trovare un nemico, il nemico in questo caso è la Big Pharma, e il nemico è AstraZeneca, io non li voglio assolvere, a me mi stanno sulle balle quanto a voi, perché, voglio dire, abbiamo fatto dei contratti veramente assurdi con loro, ma la colpa è di chi fa i contratti o di chi questi contratti li firma come AstraZeneca? Evidentemente dei nostri contrattatori, o come si può dire. Beh, insomma, AstraZeneca avrebbero sequestrato 29 milioni di dosi a Anagni. È tutto falso. È falso come quel gettone della stampa che, ve lo devo leggere, a pagina 3 il giornale dice 29 milioni di vaccini scoperti solo grazie al blitz dei carabinieri del NAS. Pagina 3 della stampa. È una cazzata. Non è così. Bastava sentire Draghi, bastava anche leggere quel pezzo a pagini dopo 30 righe. Non c'entrano niente i blitz dei carabinieri del NAS. La Ursula von der Leyen chiama Draghi e dice scusami Draghi, ci sono 29 milioni di vaccini a AstraZeneca. Verifichi ad Anagni, verifichi che cosa c'è. Quello chiama Speranza. Sabato sera, domenica, vanno i NAS, vanno a trovare quei vaccini, trovano le 29 milioni di fagini dove non c'è nessun giallo. sono 29 milioni di fiale che devono subire 18 giorni di controlli, come dice il gestore di questo infialamento che non c'entra niente con AstraZeneca ma è un terzista, sono 29 milioni di fiale che devono essere controlli. Almeno 18 giorni, c'è scritto oggi, devono stare lì per verificare che quella roba che noi ci iniettiamo non sia merda, che non ci siano patogeni, che non ci siano infezioni. È tipica procedura. Dove vanno questi 29 milioni? Anche quello lo dicono chiaramente. Vanno tutti in Belgio perché dal Belgio poi vanno in tutta Europa visto che non funziona prodotti in Italia e vanno in Italia perché sarebbero 10 volte quanti abbiamo ricevuti noi. Quindi è del tutto normale purtroppo che vadano in Belgio e dal Belgio vengono smestati questi 16 milioni di vaccini. Gli altri 13 sapete dove vanno da un accordo europeo per darli ai paesi poveri? Cioè adesso potete essere d'accordo o non d'accordo? Allora ditelo chiaramente sulla stampa Blitz contro i vaccini che AstraZeneca regalerà ai paesi poveri. Perché non lo scrivete così? Io dico perché non lo scrivete così se ce l'avete tanto contro questo giallo? Non c'è nessun giallo purtroppo. Quei vaccini vanno in Belgio dal Belgio verranno smestati in tutta Europa secondo le quote europee sono lì per essere controllati e 13 milioni di questi 29 andranno con. Poi possiamo anche non fidarci di quello che ci dicono AstraZeneca, Inas, Draghi e compagnia cantante e pensare che li abbiamo beccati là con le mani diciamo sulla polpa mentre stavano andando in Inghilterra. Ma non è così secondo quello che dicono oggi. L'altra cosa che invece noi non vogliamo vedere è quello che ha detto il direttore generale della sanità europea la signora Gallina che ha detto che l'Italia non ha voluto comprare insieme come invece ha fatto la Germania quando era possibile per lei delle dosi di vaccino extra quando era possibile prenotarle. L'Italia non le ha prenotate. Quello è sicuro. Questo è incerto. Quindi noi rompiamo le balle ad AstraZeneca senza nessun motivo mentre noi rompiamo le balle all'Italia di Conte di Speranza che non hanno comprato i vaccini in più quando si poteva. Va tutto bene. È il criterio straordinario. Travaglio riesce a difendere le primule. Io vi giuro che oggi Travaglio riesce a difendere le primule perché dice che Figliuolo e Curcio in realtà faranno la stessa cosa. Cioè uno spot in città a Travaglio che non capisce bene forse l'italiano degli altri se non quello del Foggiano beh insomma non riesce a capire che tra uno spot che si fa per esempio a Roma come si chiama lì nella cosa di Fuxas e non c'è bisogno di fare la primula c'è lo spot di Fuxas c'è la stazione Termini non devi spendere dei soldi non devi avere Stefano Boeri non devi avere dei progetti non devi prendere le città ci sono già i posti ma questa cosa toc toc Travaglio non la capisce perché è obnubilato dalla sua passione evidentemente per Conte la Merkel ci ripensa e devo dire che la Merkel non è che ne azzeccate tutte vi ricordate quando noi la definivamo un mito beh insomma in 12 ore ha cambiato idea perché doveva chiudere tutta Pasqua e poi dopo che cosa gli hanno detto le regioni non ci stanno la sua popolarità sta crescendo diminuendo tutti la definiscono un'altra zoppa ma il punto fondamentale sapete perché c'è scritto nei giornali non ha chiuso perché l'hanno presa per il colletto i suoi non soltanto regioni ma le sue imprese gli hanno detto guarda che vale 7 miliardi questi tre giorni di chiusa ma che sei scema 7 miliardi ma noi ovviamente non siamo la Germania noi ci possiamo permettere di chiudere la Pasqua permettere di chiudere il Natale permettere di chiudere l'estate ma che cazzo ce ne frega siamo miliardari siamo miliardari la Merkel ci ripensa a Pasqua perché ci perde 7 miliardi mentre noi no noi che ce ne importa noi abbiamo Galli noi abbiamo Grisanti Lopalco Speranza allora che cazzo gliene frega mentre la Merkel ci ripensa sul lockdown e noi diciamo che brava e lì lei sì che ammette gli errori sono tutti i giornali italiani ma io non riesco a capire lei ammette gli errori e la stiamo incensando noi continuiamo in quell'errore e stiamo zitti ma è una cosa cioè un giorno c'è ragione Banfi qua siamo nel medioevo 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 ma è medioevo della conoscenza del racconto nel frattempo il partito democratico si accorda con Conte geniale cioè l'accordo è Conte eletta per le prossime amministrative ne parlano tutti i giornali non perderò troppo tempo a raccontarlo perché la Fusani oggi sul riformista dice non ci posso credere cioè Conte rifà eletta la novità del partito democratico è fare l'accordo con Grillo Di Maio e Conte questo è il futuro del partito democratico si chiede diciamo in maniera retorica oggi la Fusani sul riformista storace dice PD e Movimento 5 Stelle impegnate a litigare tra loro rendono più forte il governo Draghi nel senso che questi fanno le loro partite l'etta che si vuole accordare con il Movimento 5 Stelle all'interno del 5 Stelle litigano all'interno del PD litigano nel frattempo Draghi giustamente si rafforza ultima cosa è quella patetica storia dei capigruppo ma perché oggi qualcuno lo scrive Marcucci cede al Senato per una donna ma non so in realtà ecco chi ce lo dice in maniera come le solite 8 righe Italia oggi dice ma ragazzi ma perché ci prendiamo per i fontelli questa è stata una comprensibile ripicca diletta contro i renziani che l'hanno fatto fuori e lo strumento è il femminismo le quote rosa lo capisce chiunque che dietro a quello c'è solo questa roba qua la Boldrini piagnuncola su Repubblica è una macchina del fango non sono i suoi collaboratori che non sono pagati non sono le sue assistenti parlamentari che dicono che facevano lavori che a loro non erano tenute a fare no è la macchina del fango dei giornali di destra è la solita storia della Boldrini che si mette a piangere quando in realtà fa piangere lei i suoi collaboratori foto più bella di oggi non è purtroppo quella dell'infermiera che è una storia una foto che capisco possa appassionare ma non racconta la vera storia la vera storia è quella petroliera sul canale di Suez di Traverso ci sono molti che ne parlano da Minniti l'ex ministro degli interni il petrolio ieri è aumentato del 5% perché abbiamo bloccato il canale di Suez che rappresenta leggo sui giornali il 12% degli scambi mondiali insomma vi rendete conto quanto è fragile non solo la nostra natura e la nostra economia ma come una petroliera di Traverso possa rompere gli equilibri molto più che tanti altri operazioni diciamo geopolitiche insomma questa roba della petroliera mi ha affascinato ultima cosa io non riesco a capire oggi sul sole 24 ore c'è Giorgetti che parla della rete unica sapete che si vuol fare una rete unica perché tutti si abbia quella banda larga che a me spesso manca in queste zuppe come oggi beh insomma una delle cose che mi ha affascinato che per fare questa rete unica delle telecomunicazioni ci saranno Giorgetti e va bene il ministro dell'economia e va bene franco e Colau allora io voglio tanto bene a Colau ma Colau è stato per non so quanti anni l'uomo forte di Vodafone adesso io spero che l'ufficio stampa di Vodafone non telefoni a qualcuno per bloccare questa zuppa non chiamerà Facebook come si chiama la signorita toc toc dell'ufficio stampa e ex tanto perché Colau non fa parte più dell'ufficio stampa di Vodafone ma mi chiedo ma qualcuno di quei moralisti di un tempo ma non può pensare che l'ex capo di Vodafone mondiale mi sembra un uomo bravissimo che conosce bene le strategie Vodafone eccetera possa avere oltre che qualche conoscenza su questa cosa della rete unica anche qualche vecchio interesse no? perché i moralisti in questo caso non se lo ricordano io sono dell'idea che lo faccia perché è talmente bravo Colau che sarà distaccato per esempio degli interessi del 5G rispetto a quelli della rete unica ma mi chiedo come mai non ci sia nessun giornale al mondo che si poca questa questione in Italia è fantastico è straordinario bene direi che per oggi è tutto ci vediamo domani ciao